Vediamo bene cosa vuol dire essere efficaci e qual è l'unità di misura dell'efficienza. Innanzitutto è un rapporto tra un risultato ottenuto e quello che era un obiettivo. Facciamo un esempio pratico. Se io mi occupo di attività commerciale e mi prefigo l'obiettivo di fare 10 appuntamenti alla settimana, posso andare a vedere quanto efficace sono stato. Ed è il rapporto tra gli appuntamenti effettivamente eseguiti rispetto all'obiettivo. Ipotizziamo che questa settimana io abbia fatto 8 appuntamenti. 8 su 10 è l'80%. Sono stato efficace per l'80%. Facciamo un esempio diverso. Ipotizziamo che tu abbia un'attività, un'azienda di produzione che si pone l'obiettivo a fine giornata di aver prodotto mille pezzi. Mille pezzi è il tuo obiettivo. In realtà a fine giornata ne hai prodotti 900. Significa che hai un rapporto di efficacia del 90%. Ti è chiaro cosa significa efficacia? Quanto in percentuale ho raggiunto il mio obiettivo. In genere l'unità di misura appunto di confronto sono le quantità, i pezzi, il numero di. In ogni caso è esprimibile in percentuale. Tieni ben presente questo indicatore. Quanto efficace è la tua azienda? Quanto efficace è la tua organizzazione? Quanto efficace sei tu? Quanto efficaci attenderemo o questo inc balmino www.ba.info.ori.se